Allora, ho approfittato diciamo del periodo prime per fare alcuni alcunisti, tra cui anche questo set di batterie per, come si può dire, della iWorks, è una società che conosco abbastanza e come si può dire, di cui apprezzo soprattutto gli attrezzi da giardinaggio, la motosega, il tagliarbo, diverse cose e anche loro però a livello di prezzi di batterie iniziano ad essere abbastanza costosi, per cui quando ho visto questo kit diciamo di batterie compatibili, ho detto ma sai che forse potrebbe anche valerne la pena. Per cui ripeto, non ho qui lo strumento perché fuori piove e gli attrezzi ce l'ho all'esterno, però a livello di peso soprattutto mi sembra che siano diciamo equiparabili alle originali e solo che a livello di costo invece costano meno della metà e stiamo parlando comunque di un kit di due batterie. Long Fit è un marchio che ho già utilizzato, ho delle batterie compatibili con Black & Decker e una mi sembra compatibile per Bosch Professional, soprattutto quella della Bosch Professional l'ho usata tantissimo, sempre una 5Ah, 18V in quel caso e devo dire che funziona ancora. Diciamo che poi ho approfittato di una, in quel caso avevo approfittato poi di una offerta di Amazon e avevo preso le batterie Bosch, le Procore che hanno una capacità superiore, soprattutto riescono magari con strumenti energivori tipo sbrigliatrice angolari o trappane battente che consumano effettivamente molta corrente, riescono forse a dare una marcia in più rispetto alle batterie compatibili, però diciamo anche quello lì di Long Fit onestamente non mi ha mai deluso, per cui potrebbe essere comunque una buona idea. Dategli un'occhiata, vi lascio comunque il link in descrizione, adesso purtroppo non riesco a provarla, però mi sembrano a vederle così tutto sommato ottime, l'unica cosa ecco che eventualmente poi c'è sempre la garanzia di due anni di Amazon, per cui se il prodotto poi alla fine risulta scadente non è un problema, potete sempre chiamare servizi clienti e farvele sostituire o farvele rimborsare, per cui potrebbe essere un'idea. Va bene, niente, comunque era giusto così un piccolo video su questo produttore di batterie compatibili. Vi lascio comunque, come dicevo, il link in descrizione, vi chiedo la cortesia se avete voglia di darci una mano, di lasciare un like al video, se vi è stato utile, vi è piaciuto o comunque vi ha fatto scoprire qualcosa di nuovo e se vi piacciono contenuti di questo tipo vi chiedo anche la cortesia di iscrivervi al canale, totalmente gratuito e veramente ci hai dato una mano a crescere. Grazie e alla prossima!